Fiumi di droga da Spagna e Olanda, i carabinieri di Ostia disarticolano organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti. Questa mattina all'alba sul litorale laziale da Roma fino a Gaeta, sulla rivera romagnola a Riccione e a Barcellona, Spagna, i carabinieri del gruppo di Ostia, in collaborazione con i colleghi di Rimini e con la Guardia Civile spagnola, hanno arrestato oltre 20 persone, per la precisione 22, in esecuzione a due distinte ordinanza di custodia cautelare. Una nei confronti di 16 persone emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrittuale Antimafia Capitolina del PM dottor Carlo La Speranza, l'altra nei confronti di 6 soggetti emessa dal GIP di Rimini su richiesta di quella Procura della Repubblica. L'attività costituisce la fase conclusiva di un'indagine denominata Halloween, iniziata nel novembre 2011 dai carabinieri di Riccione e poi condotta dal marzo 2012 dal nucleo investigativo di Ostia, delegato dalla DDA di Roma. È stata disarticolata un'associazione finalizzata al traffico internazionale di stufacenti, composta da soggetti dimoranti prevalentemente sul litorale romano, che importavano cocaina, hashish, MDMA, l'ecstasy e ketamina, con triangolazioni da Spagna e Olanda. In particolare l'organizzazione si riforniva di MDMA e ketamina dall'Olanda, provvedendo poi a spacciare prevalentemente sulla riviera romagnola, nel litorale romano e in Spagna, da dove invece importava la cocaina e l'ashish destinati al mercato italiano. Nel corso dell'indagine sono stati complessivamente sequestrati oltre 4 kg di cocaina, 4 kg di hashish e 12 kg di MDMA. L'ultimo importante riscontro alla piena operatività dell'organizzazione è stato effettuato a Roma il 20 agosto 2012, quando i carabinieri del nucleo investigativo di Ostia hanno arrestato una donna che trasportava 10 kg di MDMA, abilmente occultati in un doppio fondo appositamente creato nel bagagliaio della sua utilitaria. Da Ostia per mnews.it Luigi Palamara